rapina in piazzale carducci sottratti gioielli per un valore di 30.000 euro bonus palestre fino a 3.000 euro di contributi dal comune di pesaro bagnini al lavoro in attesa delle conferme sulle misure anticorri presentata la rassegna degli eventi estivi nella città di fano una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news subito in apertura parliamo di cronaca con la rapina avvenuta in piazzale carducci ai danni di un uomo di 55 anni rappresentante di gioielli e residente fuori regione l'uomo si stava recando in alcune attività specializzate della città per mostrare la merce che portava con sé un campionario di preziosi dal valore compreso tra i 25 e i 30 mila euro poco prima di risalire a bordo della sua automobile però il rappresentante è stato affiancato da una moto a bordo della quale si trovavano due uomini uno di questi scendendo dal mezzo ha rapidamente tolto di mano e sottratto al 56enne la valigetta contenente i gioielli il malvivente tornato immediatamente in sella la moto è sfrecciato via insieme al complice mentre la vittima non ha potuto far altro che chiedere aiuto ai passanti e allertare la polizia che ha già iniziato le indagini sul caso indagini per le quali verranno utilizzate anche le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti sul posto e ancora la cronaca e andiamo ora a Fano perché i carabinieri della compagnia di Fano hanno tratto in arresto quattro uomini tre ragazzi italiani e un albanese responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale i primi due arresti sono l'epilogo di una serie di indagini svolte dai carabinieri nei confronti di un giovane mondolfese di 24 anni già conosciuto per fatti analoghi fermato a San Costanzo a bordo di un'auto condotta da un amico quest'ultimo sarà poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale durante la perquisizione il 24enne è stato trovato con diverse dosi di cocaina già pronte per lo spaccio e con un cospicuo quantitativo di denaro contante gli altri due arresti sono invece il frutto di un'attività di monitoraggio condotta nei pressi di un'abitazione di un cittadino albanese di 33 anni del comune di tre castelli presso la quale si era recato un marottese di 45 anni quest'ultimo uscendo poi dalla casa ha dato il via ad un vero e proprio inseguimento con i carabinieri terminato con perquisizioni prima a casa dell'uomo residente a marotta e poi in quella del cittadino albanese all'interno della prima è stato rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga mentre in quella del cittadino albanese sono stati trovati circa 150 grammi di cocaina più altre dosi singole già pronte allo spaccio e somme di denaro tra contanti assegni pari a 15 mila euro e ora cambiamo pagina e torniamo a pesaro per parlare dell'importante contributo economico pensato dall'amministrazione comunale nei confronti dei titolari delle palestre cittadine due diverse misure presentate questa mattina e che possono raggiungere un valore complessivo massimo di 3.000 euro per richiedente tra le realtà più colpite dall'emergenza sanitaria da covid-19 a causa delle restrizioni delle chiusure imposte ci sono le palestre per questo l'amministrazione comunale ha pensato ad un contributo per il sostegno e il rilancio dell'attività del settore bonus palestre questo il nome della misura è rivolto a soggetti privati titolari o gestori di palestre corsi fitness personal trainer e scuole di danza con sede operativa pesaro coloro che faranno domanda potranno ricevere fino ad un massimo di 3.000 euro con due tipologie di contributo previste la prima a fondo perduto e fino ad un massimo di 1.500 euro per singolo richiedente sarà calcolata sulla base del numero di domande pervenute e sulla superficie della palestra motivo per il quale nel modulo da inviare sarà richiesto di indicare se la struttura è di dimensioni inferiori o superiori ai 200 metri quadrati il secondo intervento invece a rendicontazione e anche in questo caso quantificato in un massimo di 1.500 euro per richiedente in base alle domande pervenute e alle spese effettuate andrà a sostenere i titolari delle palestre per l'acquisto già effettuato o in previsione degli strumenti necessari alla messa in sicurezza dei locali come per esempio apparecchi per la sanificazione o dispositivi di protezione individuale in questo caso il richiedente si impegna entro cinque mesi dalla data di comunicazione di conferimento del contributo a trasmettere all'amministrazione attraverso post elettronica certificata all'indirizzo comune.pesero.emarche.it tutta la documentazione atta a dimostrare l'importo delle spese sostenute le palestre sono coloro che hanno sofferto di più sono tra le attività che hanno sofferto di più e anche questi sono lavoratori a volte ce lo scordiamo sembra che andiamo in palestra così a come dire per tempo libero per noi tempo libero ma perché si lavora e lavoro sono delle famiglie dietro sono quelle che hanno avuto anche meno ristori quindi abbiamo deciso con Mila di fare un'azione specifica sulle palestre ma anche scuole di danza corsi di yoga tutte quelle attività personal tutte quelle attività che sono state chiuse per tanti mesi e che spero da maggio possano riaprire anche indoor e non solo all'esterno. Il 21 di aprile sarà l'apertura delle domande i contributi saranno due uno fino a 1500 euro a fondo perduto e quell'altro sempre di 1500 euro per tutte quelle che sono le spese sanitarie dp tutto quello che serve per adeguare la palestra o il centro personal in sicurezza si potranno rendicontare anche le spese già sostenute perché ricordo insomma che già a settembre molte realtà si sono dovute adeguare quindi è giusto riconoscere anche quelle spese che erano già state sostenute da tutte le attività Bando e modulistica saranno caricati da mercoledì 21 aprile nell'albo pretorio del sito del comune di Pesaro e le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 28 aprile inviando una mail a comune.pesaro.chiocciolaemarche.it A sostegno delle palestre e non solo l'amministrazione sta inoltre pensando di riproporre diverse aree e spazi della città come avvenne l'anno scorso con la struttura al Parco Miralfiore per poter svolgere l'attività sportiva all'aperto rispettando il distanziamento e tutte le norme di sicurezza anticontagio Ci saranno diversi spazi verdi, diverse aree che potranno essere utilizzate dalle palestre per fare attività all'aperto Sicuramente la stagione estiva favorisce questo tipo di attività e noi vogliamo aiutare, incentivare, stimolare insomma a stare il più possibile all'aperto oltre che ad aiutare queste realtà economiche fortemente colpite dal coronavirus E a margine della conferenza relativa ai sostegni per il mondo delle palestre il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha fatto il punto sullo screening scolastico per indicare il numero totale di positivi rintracciati fino ad oggi Dati incoraggianti che riempiono di soddisfazione Sono le parole del sindaco di Pesaro Matteo Ricci nell'annunciare i primi numeri relativi al nuovo giro di screening che ha interessato finora le scuole medie e parte degli istituti superiori della città dove l'operazione andrà avanti anche la prossima settimana Il primo cittadino è intervenuto anche in merito al numero di casi inizialmente considerati positivi e non confermati poi come tali dai tamponi molecolari I test rapidi utilizzati nelle scuole, ha spiegato Ricci, risultano essere di ultima generazione e quindi sensibili anche all'individuazione di altre tipologie di SARS Per avere l'esito finale, ha ricordato il sindaco, è necessario in ogni caso attendere il controllo molecolare Proprio per questo e a causa dei ritardi registrati da parte di ASUR nella prima settimana di screening sull'esito dei test di controllo l'amministrazione ha deciso di rivolgersi ad un centro privato di analisi per avere una risposta definitiva sui casi segnalati positivi dai tamponi rapidi entro 24 ore Tempistiche che permetterebbero di evitare quarantene nel caso in cui i test degli studenti si dovessero rilevare negativi ai controlli definitivi Oltre 3.600 ragazzi già tamponati, 10 positivi e la prossima settimana, martedì e mercoledì, se non sbaglio, ci sarà il secondo turno nelle scuole superiori Una grande operazione di massa che ci fa dire che oggi Pesaro ci sono le scuole più sicure d'Italia Ovviamente la sicurezza totale non ci può essere ma aver controllato tutti questi ragazzi per noi è un grandissimo risultato e invito anche la prossima settimana ad aderire E poi i positivi ci dimostrano che tutto sommato la scuola è un luogo sicuro Anche se non avessimo individuato quei 10 positivi probabilmente sarebbero diventati 100, forse di più Quindi dimostra l'efficacia di questo strumento Non ci aspettavamo che l'Asur ci mettesse tutto questo tempo per darci l'esito dei molecolari Ogni screening con i tamponi veloci ha bisogno della conferma del molecolare Quando abbiamo visto nelle scuole medie che passavano 4 a volte 5 giorni abbiamo cambiato strada Del resto ormai paghiamo tutto noi, paghiamo i tamponi, paghiamo i medici, paghiamo gli infermieri Mila giustamente dice andiamo a un laboratorio privato e paghiamo anche il molecolare E adesso dalle scuole superiori il molecolare arriva in 24 ore E quindi un positivo del tampone veloce viene subito nell'arco di 24 ore la risposta con il molecolare Quindi non scattano quarantene quando non serve, scatta la quarantena quando c'è la conferma del molecolare Stessa cosa verrà la prossima settimana Del resto ormai è tutto un lavoro che purtroppo è a carico del comune La regione non ha voluto collaborare, ahimè E insomma alla fine abbiamo aggiunto una piccola spesa che però consente di ridurre il tempo al minimo Dal tampone veloce al molecolare Ricci ha infine annunciato l'intenzione e la possibilità da parte dell'amministrazione Di dare vita anche per il mese di maggio all'esecuzione di un nuovo screening per le scuole La pagina degli aggiornamenti covid sul territorio regionale e il servizio sanità della regione Marche Ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4853 tamponi 2719 nel percorso nuove diagnosi di cui 961 nello screening con percorso antigenico E 2134 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 12% I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326 con 91 casi riscontrati in provincia di Pesaro Urbino 13 invece i decessi segnalati nella serata di ieri 8 vittime erano residenti nella provincia pesarese E per quanto riguarda invece l'assegnazione della fascia di rischio alla regione Le Marche rimarranno in zona arancione anche per la prossima settimana L'annuncio è arrivato nel pomeriggio dal governatore della regione Marche Francesco Acquaroli E sempre questo pomeriggio invece il premier Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa Ha annunciato per il prossimo 26 aprile il ripristino della zona gialla rafforzata Ciò permetterà la riapertura di diverse attività nelle regioni che quindi potranno accedere a questa fascia di rischio più bassa Tra le misure più importanti previste per la zona gialla Il ripristino completo delle scuole in presenza e il via libera per le attività all'aperto Tra cui il settore della ristorazione con la possibilità per i ristoranti di rimanere aperti anche a cena Quello dei cinema e anche dei teatri Al chiuso invece saranno presenti ancora delle restrizioni Confermato il coprifuoco alle 22 e inoltre il premier ha annunciato che saranno permessi anche gli spostamenti tra le zone gialle E in seguito sarà introdotto anche un pass tra le regioni di colori diversi Ovviamente vi parleremo nel dettaglio di queste nuove misure che sono emerse nel corso di questo pomeriggio Con la conferenza del premier Draghi nei prossimi spazi dell'informazione di Rossini TV E ora andiamo avanti perché per alcuni da qualche giorno, per altri invece da qualche settimana Bagnini e titolari degli stabilimenti balneari pesaresi sono già al lavoro anche in città Per la manutenzione delle spiagge in attesa dell'inizio della stagione E della conferma sulle misure di sicurezza che dovranno essere predisposte Come comunicato dalla regione, la stagione estiva nelle Marche partirà il primo maggio Quindi i bagnini e i titolari degli stabilimenti balneari sono già al lavoro da qualche giorno e da qualche settimana Per iniziare i lavori di manutenzione negli stabilimenti balneari e lungo le spiagge Bagnini e i titolari di stabilimenti balneari che nel frattempo sono in attesa di ricevere le conferme Per quanto riguarda le misure di sicurezza previste appunto per le spiagge anche pesaresi Noi abbiamo iniziato un po' prima per la questione del tempo Ci siamo presi un po' più di tempo Abbiamo incominciato a lavorare a marzo con le belle giornate E adesso siamo a un buon punto Cerchiamo di fare il prima possibile per essere pronti per il primo di maggio Abbiamo già fatto qualche lavoretto di manutenzione della spiaggia come ogni anno Come la pittura dei capanni, la ristrutturazione dei tetti, sempre del capanno Quest'anno abbiamo cambiato il colore ai gazebi Ogni anno noi facciamo sempre qualcosa di nuovo per i nostri clienti I lavori sono già stati iniziati da diversi giorni Adesso interrotti un po' dal maltempo Siamo molto premurosi e impazienti di cominciare la stagione Perché comunque è troppo tempo che l'Italia è ferma E quindi noi siamo, ritengo, un po' tra i privilegiati di questa situazione negativa Stiamo provvedendo alla verniciatura Riferemo tutta la pedana nuova di tutto il bar-ristorante E poi la prossima settimana inizieremo a portare giù la sabbia, pulirla E iniziare a mettere giù ombrelloni, lettini Speriamo di essere pronti per il 2 di maggio Servizi, intanto bisogna garantire tutta la sicurezza di norma anti-covid Distanziamenti, anche ristorazione Distanziamenti di un metro, tutto, mascherine Speriamo di essere pronti e di garantire i servizi al massimo Per quanto riguarda le linee guida di anno scorso Noi siamo già preparati, abbiamo visto che ha funzionato Ha funzionato tutto bene Chiaramente chiediamo molto anche la collaborazione del pubblico Perché è fondamentale che siano responsabili in questa situazione Altrimenti non bastano le nostre attenzioni Come stagione balneare noi non siamo mai stati pronti per il 1 maggio Noi siamo sempre stati pronti come ristorante, bar E abbiamo dato un attimino di disponibilità per la spiaggia Ma la situazione, la struttura completamente organizzata per la spiaggia Ancora non siamo pronti, anche perché dobbiamo aspettare i ripascimenti Quindi saremo parzialmente preparati Per i ristoranti invece non c'è problema E aspettiamo un attimino anche le direttive Perché siamo un po' incerti di come procedere Sia per il periodo, sia per le linee guida Speriamo che non arrivino all'ultimo momento Perché anche noi abbiamo bisogno di organizzarci Attendiamo le normative Ma spero che saranno come quelle dell'anno scorso Le restrizioni saranno sempre dei 10,5 metri quadri per l'ombrellone Hanno chiesto di ridurlo a 10 Speriamo che accolgano questa richiesta Parlando con la gente, la gente ha una gran voglia di uscire E di rincominciare a vivere, tra virgolette Ho un sacco di richieste per luglio e agosto da fuori regione Quindi penso che sarà un'estate come l'anno scorso Con più controlli Credo che sarà una stagione come quella dell'anno scorso Io penso che tutti i piazzareti, tutta la gente Abbiamo voglia di andare al mare Che dopo un anno di stare chiusi dentro casa Abbiamo voglia anche di uscire Speriamo che sia una bella stagione come l'anno scorso E che si lavori, che lavori in tutti più che altro E nella provincia di Pesaro e Urbino Due pensioni su tre non superano la soglia di povertà E significativa è anche la differenza tra uomini e donne E' ciò che emerge dai dati IMSS sulle pensioni vigenti nel 2021 Elaborati dall'IRES CGL Marche Come vi raccontiamo in questo prossimo servizio Sono 117.000 le prestazioni pensionistiche e assistenziali Attualmente erogate dall'Inps nella provincia di Pesaro e Urbino Di queste, oltre 60.000 sono le pensioni di vecchiaia 9.000 quelle di invalidità 22.000 le pensioni superstiti Quasi 4.000 gli assegni sociali E infine 21.000 sono le prestazioni agli invalidi civili Questo è il quadro che emerge dai dati dell'Inps Sulle pensioni vigenti nel 2021 Escluse le gestioni dei lavoratori pubblici Elaborati dall'IRES CGL Marche Dal 2017 il numero delle pensioni complessivamente erogate Nella nostra provincia è diminuito del 3,1% Mentre il valore dell'importo medio è di 811 euro lordi Dall'analisi dei numeri risultano poi esserci due dati Che segnano in negativo il report per la provincia pesarese La differenza riscontrata tra uomini e donne E l'ampia percentuale di pensioni inferiori alla soglia di povertà Dai dati elaborati dall'IRES CGL Marche Emerge un quadro per quanto riguarda le pensioni Molto complicato Il problema veramente grosso è la differenza Che noi riscontriamo tra uomini e donne Nel senso che le donne percepiscono di pensione All'incirca il 44,5% in meno rispetto agli uomini Ma non solo L'altro dato da rilevare è che nella provincia di Pesaro Urbino Il 64% del totale delle pensioni Sono inferiori ai 750 euro al mese Quindi questo significa che due pensionati su tre Percepiscono un importo che non consente loro Di superare la soglia di povertà E anche rispetto a questo dato Le donne hanno una pensione ancora più bassa Rispetto a quello degli uomini Questo significa che il nostro sistema pensionistico È un sistema pensionistico che va rivisto Per la CGL è necessario modificare la legge Fornero Perché è rigida e iniqua E soprattutto è necessario In questo momento Ridisegnare un nuovo sistema pensionistico Più flessibile Che tenga conto anche Del lavoro delle donne Che fanno un lavoro di cura Del lavoro delle nuove generazioni Che molto spesso è precario E non consente quindi Di avere Dei contributi versati regolarmente L'assessore alle politiche sociali Del comune di Colli al Metauro Anna Chiara Mascarucci Informa che a conclusione Del secondo avviso di fondi Di solidarietà alimentare Per buoni spesa È risultato un avanzo Di oltre 38 mila euro L'amministrazione Ha quindi deciso Di finanziare Un terzo intervento Di sostegno alimentare Con importo complessivo Di 40 mila euro L'avviso pubblico È consultabile Sul sito del comune di Colli al Metauro E a Fermignano Sono invece disponibili 235 voucher Per l'acquisto di biciclette Il progetto negli anni scorsi Ha permesso di emettere buoni Per l'utilizzo di autobus Per il tragitto Casa scuola O casa lavoro Mentre per le annualità 2021-2022 Verranno emessi voucher Per l'acquisto di biciclette E biciclette elettriche Il regolamento I buoni Sono scaricabili Dal sito del comune di Fermignano E dopo il successo Dei primi due incontri Si terrà domenica Alle ore 9 Il terzo webinar gratuito Messo a disposizione Da terziario donna Confcommercio Pesaro Urbino Per tutta la rete Terziario donna Confcommercio E per le donne Della provincia Lo scopo è promuovere La campagna nazionale Menopausa Donò Disturb Ideata dalla presidente Del gruppo Bellezza Salute E benessere Di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord Stella Scarpa Per aderire all'iniziativa È possibile inviare un'e-mail A terziario donna Più Chiocciolas Scompesaro.it E dopo Centro Service Erema Tarlazzi Anche Arredo Classica Deciso di regalare A tutti i suoi dipendenti 50 WL card Con relativa felpa ufficiale L'azienda Sede a Montecchio Di Vallefoglia Ed è nata Nel 1998 Come realtà produttiva Di mobili Per l'arredamento Della casa Che vengono esportati In tutto il mondo Ed è stata presentata Questa mattina L'anteprima Degli eventi estivi Della città della fortuna Tante le conferme In questa seconda edizione Di Fano en plein air Tra le novità Anche alcuni appuntamenti Legati al carnevale E al turismo Esperenziale Ce ne parla in questo servizio Simone Celli Formula vincente Non si cambia Soprattutto se l'allerta Per la situazione pandemica Resta inevitabilmente alta Ed è così Che Fano en plein air Giunge alla sua seconda edizione Con il suo fitto calendario Di eventi estivi E non solo Una proposta turistica Nata in nome del divertimento E della cultura Il tutto rigorosamente In sicurezza Immancabili molti Di quegli appuntamenti Che rappresentano La spina dorsale Dell'estate fanese Con qualche innesto in più Come un'edizione rivisitata Del carnevale E l'inedita Fano da vivere Basata sull'idea Che la vacanza Rappresenti Prima di tutto Un'esperienza Noi abbiamo passaggi Che è confermata a giugno Quindi 18-25 giugno Il jazz Che è confermato a luglio Fine luglio Il carnevale Le ultime due settimane Di agosto Per poi arrivare Al brodetto Che invece sarà Posizionato a settembre In tutto questo Si inserisce Symphony Pop Festival Le tracce Due realtà Realizzate con la musica Il nostro teatro Della fortuna Con degli eventi particolari E tutti gli altri eventi Della nostra città Che vanno Non so Da letteraria All'incontro internazionale Polifonico Al Fan of Film Festival A Centrale Fotografia E quindi E le tante altre manifestazioni Come il Paglio delle Contate Quindi Continueranno Ad essere Vissute Con il carattere Della sicurezza Che rimane Carattere preponderante Per noi Alla fine La grande novità Di questo programma Eventi Sono le esperienze Anche questo Hanno un carattere Dettato dal piano strategico Ma da quest'anno Potranno essere Prenotabili Una serie di esperienze Che ricadono un po' Sulla visita Della nostra città Sulla possibilità Di andare in barca a vela Nel nostro mare Quindi E godersi la veduta Della nostra città Del nostro territorio Dal mare La possibilità Di vivere L'esperienza Del brodetto Andando al mercato Del pesce Comprandosi direttamente Del pesce E quindi creando In queste cucine Della nostra città Direttamente il brodetto Per poi assaggiarlo Piuttosto che Visitare le nostre Cantine Del bianchello Del metauro E degustare I nostri prodotti tipici O veramente Tante altre esperienze Quindi Innovazione Voglia di ripartire Un carattere Dettato dal piano strategico E l'orgoglio Di noi fanesi Che vogliamo Ripartire E far emergere Tutte le bellezze Della nostra città È tutto pronto Dunque per una stagione All'insegna Della ripartenza Per i fanesi Per i turisti Ma soprattutto Per le attività Economiche Fanno è pronta E crede che l'estate Possa essere Veramente un momento Dove possiamo Far ripartire L'economia Possiamo dare Un sostentamento Forte All'attività Economiche Che ovviamente In questi mesi Hanno subito Dei gravissimi Danni dati Dalla pandemia L'abbiamo lavorato Sodo E vogliamo Vogliamo essere pronti Proprio per questo Periodo importante Che è il periodo estivo Lo facciamo Facendo emergere L'orgoglio fanese Il manifesto Realizzato per noi Da Rebecca Lisotta Lo rappresenta Dedicato al Trentennale Della città Dei bambini E delle bambine Appunto che ricade Quest'anno Che riporta Quelle che sono Le caratteristiche Dettate dal piano Di ARC Questo green and blue Quindi le bellezze Del mare Ma anche le bellezze Delle nostre colline Che vengono rappresentate Nei capelli Appunto dei bambini Poi viene rappresentata La sostenibilità Con la presenza Di una bicicletta Viene rappresentata La nostra storia Il programma È un programma Veramente molto ricco Dove le principali Associazioni Continuano a lavorare Ci sarà la novità Del carnevale Nel periodo estivo Che sarà Un carnevale Estatico Però veramente Abbiamo investito Sulle associazioni Culturali Ma per creare Veramente un volano Un motore Che faccia ripartire La nostra economia Infatti abbiamo Chiesto loro Di realizzare Appieno delle attività Appunto all'aperto Che possono essere Realizzate in centro storico Ma anche in zona mare E quanto parliamo Di zona mare Parliamo sia Del Lido Che della Sassonia Che di Torretti Che di Ponte Sasso Ed è stato presentato Qualche giorno fa Al Teatro Angel Dal Foco Il progetto Pergola Città delle tinte Dei colori Per la cultura Della naturalità Nella prossima intervista Il sindaco di Pergola Simona Guidarelli Ci racconta Di cosa si tratta Siamo riusciti finalmente A presentare Quello che è Il nostro progetto Delle tinte Più nel concreto Al termine Del progetto Di fattibilità Che è stato seguito Dal professor Davide Rampello Sabato mattina Abbiamo effettuato Questo incontro A teatro In maniera ridotta Rispetto a come pensavamo Il covid Nel 2020 Purtroppo ha rallentato Tutti i nostri programmi E li sta rallentando ancora Siamo stati molto soddisfatti Della presenza Del rettore Dell'Università di Urbino Calcagnini E del rettore Dell'Università di Camerino Pettinari A testimonianza Proprio dell'attenzione Dell'interesse Anche da parte Di queste realtà E colgo l'occasione Per ringraziarli Per ringraziare anche Regione Marche Presente con Il consigliere Luca Sarfilippi E presente anche Gianluca Carabs Come amministratore unico Di Svim È un progetto importante Che vede la collaborazione E la partecipazione Sia di realtà Private Di aziende private Imprenditori Che di enti pubblici L'idea parte proprio Dal valorizzare Quella che è stata La nostra storia Perché A Pergola Tinte Tintori E la Naioli Hanno rappresentato Un momento importante Nella storia Degli scorsi secoli Abbiamo un bellissimo rione E anche una bellissima chiesa Appunto Santa Maria delle Tinte Nel concreto Andando nel concreto L'idea è di creare A Pergola Un centro di ricerca Quindi non solo Coltivazioni di piante Tintorie Ma anche proprio Un centro di ricerca E formazione Dove Dove attuare Appunto Gli studi Sulle erbe tintorie Nuove erbe Nuove tecniche Impianti Tutto quello che riguarda Questo mondo Che poi va a toccare Tantissimi settori Perché i colori naturali Sono interessanti Per tantissimi settori Andiamo dall'arredamento Al tessile Alla pelletteria All'abbigliamento Alla pelletteria Ma anche ai giocattoli C'è tantissimo da fare Questo è un primo punto Per noi Dal quale partire Per Per poi concretizzare Ecco quello che è stato Il lavoro Quella che è stata L'idea di questi primi Due anni Colgo l'occasione Per aggiungere anche Che stiamo lavorando Ovviamente anche A quelli che sono Gli eventi Che sarà possibile Proporre Se tutto andrà per il meglio Come tutti ci auguriamo Durante l'estate Sarà possibile Riproporre Alcune iniziative Alcune manifestazioni Sempre pensate Con tutte le precauzioni E tutte le restrizioni Insomma dovute al covid Però siamo fiduciosi Che sarà possibile Metterle in atto Abbiamo due festival Al momento Alter art A inizio a luglio Insomma nella Nella prima parte Dell'estate Un festival dedicato Al teatro E all'arte Contemporanea E alla danza In particolare Un festival Che parla molto Di inclusione E un secondo festival Invece A chiusura Dell'estate A settembre Il blooming festival Che Pergola Già conosce Da diversi anni Dedicato alle arti digitali E questa era davvero L'ultima notizia Per il nostro telegiornale Vi ricordo ora Gli appuntamenti Che potrete seguire Su Rossini TV A partire da Questa sera Alle ore 21.15 Con uno speciale Dedicato alla primavera E alle tendenze primaverile Per quanto riguarda Il mondo delle piante Raccontato da Garden Center Florio Lo speciale vi aspetta Quindi su Rossini TV In prima sera E poi potrete rivedere In replica Sempre questa sera Alle 21.30 Oppure anche Nel fine settimana Negli orari indicati Nel cartello Generazione Silver Gli ospiti Della puntata Andata in onda Giovedì Sono Davide Schembri Nutrizionista clinico E ricercatore L'architetto Tiziana Gallo Il musicista E il costruttore Di Clavicembali Roberto Livi E la responsabile Ufficio Nasco E 50 e più Cristiana Borficchia Ovviamente l'informazione di Rossini TV Torna poi puntuale anche domani mattina In diretta alle 7.20 Con un nuovo appuntamento della nostra rassegna stampa In conduzione ci sarà Marco Cadeddu Domenica alle 20.30 Torna puntuale Anche un nuovo appuntamento con Wine & Luxury Gli ospiti di questa nuova puntata Saranno l'imprenditore e fotografo Giovanni Marinelli L'esperto enogastronomico Tello Renzi Il restaurant manager dell'Idilio Roma Alessandro D'Andrea E infine il cotitolare e chef Del convivio Troiani Sempre a Roma Angelo Troiani Protagonista in questo fine settimana Su Rossini TV Sarà anche lo sport Con il Bramante Pesaro Basket Per la sesta giornata di campionato Di Serie C Gold Potrete quindi assistere al match Del Bramante Pesaro Contro l'Unibasket Lanciano Domenica su Rossini TV Alle 21.30 E questo era davvero il nostro ultimo avviso Grazie per averci seguito In questa edizione del nostro telegiornale Vi auguriamo un buon proseguimento Di serata su Rossini TV